Non c'è pace per i monumenti e i siti di interesse culturale di Napoli. Dopo il nubifragio del weekend di Ferragosto, in via dell'Anticaglia, a pochi passi da Spacca a Napoli, si sono staccati frammenti dalle mura nei pressi dell'antico teatro romano. Il monumento, che costituisce parte del patrimonio archeologico per cui è nota la città partenopea e che attira migliaia di turisti ogni anno, si trova proprio nell'area interessata dal crollo. Dal cielo sono letteralmente piovuti frammenti di tufo, mattoni rossi e ganci di ferro che sono caduti all'incrocio tra Vico Limoncello e Vico Cinque Santi nella affollata strada del centro storico. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e i vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area. Nessuno è rimasto ferito, tuttavia l'episodio ha gettato nel panico i residenti e alcuni passanti che al momento del crollo si trovavano in zona. Grazie.